Adesso comincia il waltzer dei microfoni, per fortuna abbiamo una persona che ci aiuta. Dunque, dunque, stiamo parlando di forme d'arte, restiamo nel mondo della recitazione. Dicevamo prima di eccellenze che dalla Campania si diffondono, dilagano meravigliosamente in tutto il mondo. C'è una fiction che non so in quanti paesi si vede, che è l'amica geniale. Per cui vorrei qui sul palco Antonio Buonanno e Elvis Esposito. Antonio, l'ho rivisto dopo un po' che non ci vediamo. Dov'è Antonio? Eccolo lì, eccolo lì. Aspetta, dove sono? Eccolo. Elvis c'è? Sì? Ok, venite, venite. Ed è Elvis, Elvis Esposito. Ecco, vedete, uno decisamente più giovane dell'altro, ma questi sono come... Tu sei quello più giovane ovviamente, ti microfoniamo subito, ben arrivati. Ragazzi, qui ci vuole un applauso enorme. Un applauso! Abbiamo i napoletani del mondo, altro che gli emigranti. Ragazzi, faccio una domanda difficile. È una responsabilità essere un ambasciatore dell'Italia, di Napoli e della Campania in particolare, nel mondo davanti a quanti miliardi di telespettatori. In realtà, personalmente non me lo sono mai chiesto, però... No, sono contento, contento e vediamo. Grande soddisfazione. Assolutamente, assolutamente sì. Grazie, io sono di pochissime parole. Infatti, Elvis, tu aggiungere qualcosa, anche tu grazie. Elvis Esposito, eri già figo di tuo, poi adesso che sei diventato famoso come vanno le cose? Sono migliorate sensibilmente. Grazie per questo premio davvero, è veramente bellissimo essere qui e niente. Ringraziamo D'Auria Creazioni per questo premio davvero fantastico. Grazie, è veramente un onore. Niente, come ha detto già Antonio, è stato bellissimo, un'esperienza fantastica. Poi Totò, voglio dire, in tutti noi napoletani. Sì, Totò è Napoli, è veramente il principe, quindi onorarlo, essere qui e far parte di questa serata è veramente una cosa bellissima. Però non sei per niente spavaldo, perché insomma tu... Beh, ma sai, ma meno male. Gli attori sono esplosivi. Facciamo un ragionamento surf, ragazzi, spoileriamo, che succede nella seconda sera? Veniamo alle cose semplici. Muoiono tutti. Perfetto. Allora, con questa informazione... Gomorra, tu la vendetti. No, cioè, no. Va bene, ragazzi, intanto grazie, restate con noi. Ma ti sposi? Ma saranno a fare i suoi? No, dico, nel senso dell'amica geniale, no? Non te lo può dire, secondo me. Non me lo può dire. Lui non ha voluto che io prendessi la figlia, quindi... Ma cerca di parlare un po' a tavola. Io perciò vi ho messo nello stesso tavolo, capito? L'ho mandato a prendere il gelato, ho detto vai, 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 vai. State girando in questo periodo, giusto? A Ischia. E andate avanti? Infatti è andata via. Valentina è stata qui, Valentina H è andata via, l'abbiamo premiata poco fa, proprio perché è partita per Ischia. Grazie per essere state con noi. Bocca al lupo. Grazie a voi, grazie. Grazie, grazie, grazie. Spero che vi porti tanta fortuna come tanti artisti. Siamo sicuri di sì. Bravi, allora, di serie in serie, di successo in successo, un'altra serie internazionale che si vende in 100 miliardi di paesi, vista dovunque.